L'intento è quello di migliorare la sicurezza stradale. Si muove seguendo questa ottica l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Sulmona che ha deciso di installare autovelox in città. Ne sono previsti dieci, i primi sono già attivi nel viale della stazione ed in viale della Repubblica, mentre gli altri saranno sistemati in quelle strade dove, dopo uno studio sulla pericolosità, risulteranno necessari, come le vie di collegamento con le frazioni. La prossima installazione sarà probabilmente in viale Sallustio, ad annunciarlo il sindaco Peppino Ranalli. Noi abbiamo portato avanti quel programma che avevamo annunciato all'inizio del nostro mandato che c'era un'esigenza forte di sicurezza sulle nostre strade cittadine e quindi abbiamo progettato e in questi giorni sono messe in campo dieci misuratori di velocità, dieci colonnine, soprattutto sulle strade più pericolose di Sulmona e delle frazioni, proprio per incentivare il rispetto delle norme, alla sicurezza sulle strade e non in ultimo quello non di repressione ma di diciamo di prevenzione. Quindi qualche piccolo risultato già si vede, soprattutto su via della stazione, su altre alteri della Repubblica che erano le strade percorse ad alta velocità. La Polizia Municipale fa sapere che sono state ravvisate le prime irregolarità nei punti dove i dispositivi sono già stati sistemati. Due lungo il viale della stazione, entrambi su un lato ma preposti al controllo di tutti e due i sensi di marcia, ed un altro lungo viale della Repubblica nelle vicinanze del centro commerciale Nuovo Borgo. Si tratta di apparecchiature di alta tecnologia. Negli appositi box sono inserite delle telecamere di ultima generazione che raccolgono i dati da trasmettere alla Polizia Municipale. Il limite di velocità è di 50 km orari, con una leggera tolleranza a 55 km orari, superato il quale scatta la multa. Impiegando l'alta tecnologia, spiegano dalla Polizia Municipale, è un modo anche per sopperire alle carenze di organico. Il sindaco Ranalli ha inoltre annunciato che il piano sicurezza con la videosorveglianza è reso possibile da un finanziamento di 150 mila euro dalla regione, che permetterà non solo la sistemazione delle colonnine antivelocità, ma di completare la rete delle telecamere. E il potenziamento della nostra rete operativa. Rete operativa e centrale operativa che ha servizio non solo delle forze della Polizia Locale, ma anche delle altre forze presenti in città e che costituiscono un controllo del territorio e per, diciamo, seguire quei fatti o quegli eventi che in qualche modo possono nuocere la nostra cittadinanza. Quello della sicurezza è un tema importante a cui noi teniamo molto perché riteniamo che Sulmona debba essere preservata nella sua vita democratica e nei suoi comportamenti civili.